Dall'inizio della settimana Italia 2 è visibile in digitale terrestre in tutti i comuni delle province di Salerno e di Avellino. Per alcune zone, in particolar modo per i comuni che si trovano a nord della provincia di Salerno e per quelli che si trovano nell'Avellinese, sarà necessario effettuare la risintonizzazione del decoder per il digitale terrestre. Aumenta quindi la copertura del territorio da parte della storica emettente della provincia di Salerno. Il canale Italia 2, con un palinzesto completamente rinnovato, offre ai telespettatori una finestra informativa costantemente aggiornata sui fatti e gli avvenimenti della provincia e della regione Campania. La programmazione dedicata all'informazione inizia al mattino con la rassegna stampa. Nel pomeriggio si prosegue con la messa in onda del TG Flash ed a seguire per tutto il pomeriggio va in onda la rubrica Time News con aggiornamenti costanti sui fatti di cronaca e politica. Il palinzesto dedicato all'informazione si chiude in serata con le edizioni dei telegiornali. La copertura con il proprio segnale non si fermerà le province di Avellino e Salerno ma nei prossimi mesi si stenderà gradualmente a tutta la regione Campania.